Ecco il mio libro, è un romanzo al soggetto dell'amore, della morte e anche dell'origine della chirurgia plastica nel Prima Guerra Mondiale. Il controllo due soldati, tre uomini, un po' di sofferenza. In le trenti, molti uomini erano maldi, in l'occhio, in l'occhio. Cosa fare con questi uomini? Surgegni hanno sviluppato le mani che erano anche miracolosi e disgusti, ma non c'era l'alternativa. Quindi se un uomini che ha un uomini che ha un uomini come questo è vero in amore, e un uomini che è vero in amore, come si tratta con questo? E' la storia.